Ma quali sono i prossimi passi e che cosa ci si può aspettare? Abbiamo con noi la professoressa Lucrezia Reiklin della London Business School, che ringraziamo di essere con noi, che è grande esperta anche di politica monetaria, dei cicli dell'economia. Professoressa, ben arrivata, grazie. Abbiamo insieme fatto un viaggio un po' avventuroso, ma ce l'abbiamo fatta, essere qui presenti su questo palco. A me fa molto piacere averla perché ovviamente per questo mondo in particolare, che è la prima vedetta sul consumo degli italiani, beh, l'inflazione è il fenomeno numero uno e quindi lei che è così esperta, ha appena anche scritto un paper su questo, la prima domanda molto semplice che le fa, cioè, ma scenderà, ha iniziato a scendere, ha preso la china della discesa finalmente questa inflazione, oppure fa fatica perché anche ad aprile abbiamo visto che anziché scendere di un pochino, in fondo si è fermata e in alcuni casi è anche salita. No, intanto buonasera a tutti quanti, abbiamo condiviso un viaggio molto avventuroso, quindi siamo diventati molto amici. L'inflazione scende, lo vedete, l'inflazione scende e scende già da qualche mese, negli Stati Uniti ha cominciato a scendere anche da prima. Quello che non scende è quello che si chiama la core inflation, l'underline inflation, che è la componente dell'inflazione meno legata all'energia, che è legata all'energia solo indirettamente, quindi è quella componente dell'inflazione esclusi i beni energetici ed esclusi i beni alimentari. Questa parte qui è più persistente di quanto le banche centrali non si aspettassero e questo zoccolo duro è la preoccupazione fondamentale sia della Fed negli Stati Uniti che della BCE in Europa. Queste banche centrali, professoressa, dalla primavera dello scorso anno hanno iniziato ad alzare i tassi di interesse in maniera forsennata, secondo alcuni addirittura in maniera eccessiva e tuttavia i risultati in termini di calo dell'inflazione non si vedono. È la cura che non funziona oppure ci vuole più tempo per vedere questo effetto? Io ho un'opinione personale che non è quella della Lagarde. Noi stiamo vivendo una fase di aumento dei tassi che è la più dura dal dopoguerra. Non si è mai visto un aumento così rapido dei tassi di interesse, questo sia negli Stati Uniti che in Europa. Anche la famosa disinflazione di Volcker negli anni Ottanta dopo quel grande shock petrolifero appunto della fine degli anni Settanta non è stata così aggressiva e l'inflazione anche in quel periodo scese, scese più gradualmente di adesso, ad un tasso meno rapido e si fermò per dieci anni tra il 3 e il 4%. Noi invece abbiamo questo obiettivo di arrivare al 2% entro il 25%. Quindi questo è un'aggressività che non si era mai vista prima, è un'attenzione a mio parere eccessiva sull'inflazione perché quello che la storia ci insegna è che quando c'è uno shock di prezzi relativi, perché questo è quello che abbiamo vissuto dopo la crisi energetica e soprattutto la crisi legata all'Ucraina, quindi il prezzo del petrolio va sul rispetto ad altri beni, c'è una specie di catena. Prima sono colpiti i settori che usano immediatamente il petrolio, dopo i settori che usano, quei settori che usano il petrolio, il gas in questo caso, e in questa catena in cui il livello dei prezzi è rigido, l'inflazione si aggiusta, ogni settore si aggiusta con ritardo, per esempio i beni alimentari arrivano dopo e scendono dopo e quindi c'è un'inerzia naturale che è intorno ai 60 mesi più o meno della parte core dell'inflazione. Quindi anche indipendentemente dalla politica monetaria noi ci dobbiamo aspettare questa persistenza. Poi sta la politica monetaria a decidere se ucciderla massacrando la domanda oppure aspettare. Professoressa, il professor Perrone nella lettera d'invito all'incontro di quest'anno ha scritto ci sono diversi modi di reagire all'incertezza, uno di questi è di dire beh resistiamo, facciamo passare la nottata perché poi arriverà l'alba, si torna alle condizioni precedenti che per quanto riguarda i livelli di inflazione sono quel famoso 2% a cui lei faceva riferimento. Molti si chiedono se per come è oggi il mondo e per come è oggi l'economia il 2% sarà il livello di inflazione con cui dovremo convivere in futuro oppure se l'inflazione sarà strutturalmente più alta per una serie di motivi che però faccio elencare a lei. Diciamo le banche centrali possono far tornare l'inflazione al 2% se naturalmente la politica fiscale va nella stessa direzione, le politiche di bilancio vanno nella stessa direzione della politica monetaria. Il problema, la domanda da farsi è se sia saggio arrivare al 2% nel medio periodo nel futuro. Molti economisti sostengono che un tasso di inflazione più ragionevole, dato appunto questi cambiamenti anche legati a questi nuovi shocks, da una parte la tecnologia, dall'altra parte l'ambiente, che creano questi cambiamenti di prezzi relativi, di questi trend nei prezzi relativi è forse più saggio avere un tasso obiettivo di inflazione più alto del 2%. La BCE però ha il 2% nella sua strategia, non è nel trattato europeo ma ha una valenza quasi legale per cui per cambiare il target di inflazione naturalmente questo è un processo complicato che non si fa facilmente. Lei cosa si aspetta adesso anche dalla Banca Centrale Europea che molti ritengono sia arrivata quasi al termine del suo ciclo di rialzo dei tassi e poi ne parleremo, questo ha un impatto diretto ovviamente anche sul bilancio degli italiani? Ma io mi aspetto, quello che si aspetta al mercato a questo punto è già annunciato che ci saranno altri due aumenti di tassi, probabilmente i 25 punti di base e dopodiché probabilmente i tassi scenderanno, la grande domanda è quanto velocemente continueranno a scendere e per quanto tempo i tassi nominali rimarranno oltre il 3. Ora quello che conta per i consumatori, per voi, per tutti, non è il tasso nominale ma il tasso reale, cioè quindi il tasso nominale pulito dall'inflazione attesa. Se la BCE tenesse un tasso reale troppo alto rispetto a quello che è la domanda, l'offerta di risparmio, questo sarebbe estremamente penalizzante per l'economia reale e per il consumo in particolare. Naturalmente questo è una calibrazione che la BCE dovrà fare per capire quale è il tasso reale. Normalmente se si fa un conto della spesa il tasso reale in media dovrebbe essere intorno al tasso di crescita potenziale. Diciamo che il tasso di crescita potenziale in Europa è intorno all'1.1.2, quindi sarebbe non troppo saggio avere un tasso reale oltre all'1.1.2. Lei li ha visti bene dall'interno. Allora questa situazione è stato un grande stress test per le banche centrali però bisogna dire che non ne hanno azzeccata una perché quando è arrivata l'inflazione hanno detto è un fenomeno temporaneo non c'è problema restiamo calmi tutti tranquilli dopodiché hanno dovuto rincorrere con un rialzo così forte che tira 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 finché non si rompe qualcosa e qualcosa si è rotto perché negli Stati Uniti lo citavamo poco fa Silicon Valley Bank, le banche regionali, anche qui in Europa poi il caso di Credit Suisse non era esattamente uguale anzi però il sistema finanziario sta soffrendo per questo rialzo così veloce. A proposito di regolamentazione per Ross, le banche americane non erano regolamentate. Il tuo motivo per cui gliele ho citate perché bisogna sempre tenere un equilibrio tra le due cose. Come vede la situazione anche del sistema bancario che poi per loro e per l'economia è fondamentale? Ma diciamo la politica monetaria per combattere l'inflazione può fare solamente una cosa, restringere il credito e quindi la domanda soprattutto all'inizio appunto la domanda per housing, insomma comunque la domanda di consumo, poi la domanda dell'impresa, noi già stiamo vedendo la domanda per prestiti e gli standard di credito sono improvvisamente diminuiti e questo viene fuori dalla survey che ha fatto la BCE nel primo trimestre del 2023, hanno rafforzato già la tendenza della fine del 2022 e c'è un cosiddetto aumento della tightness del credito che è ai livelli del 2011 quando abbiamo avuto l'ultima crisi finanziaria. Quindi sicuramente c'è una preoccupazione ma voglio dire questo rallentamento del credito è qualcosa di voluto. Quando Volk, il famoso eroe americano che ha combattuto l'inflazione negli anni Ottanta, qualcuno gli chiese come hai fatto a arrivare finalmente a domare l'inflazione e lui ha detto ho creato qualche crisi bancaria e qualche banca rotta. Questo è il modo in cui le banche centrali fanno il loro lavoro. Quindi preoccupazioni per il sistema bancario europeo non per ora perché le banche europee sono meglio capitalizzate di dieci anni fa, ci sono comunque, si cominciano a vedere delle tensioni dal punto di vista della raccolta, della liquidità, ne ha parlato anche la Banca d'Italia recentemente per quanto riguarda le banche italiane e il vero rischio è il rischio di credito e questo è un indicatore ritardato rispetto al ciclo economico, quindi l'economia rallenterà anche se diciamo le previsioni, poi i fatti sono stati un po' meglio delle previsioni. Io penso che dal punto di vista degli attivi, dei bilanci delle banche si vedrà qualche segno di stress. Tassi più alti professoressa, restrizione creditizia non sono bei segnali per l'economia. Questa settimana la Commissione europea ha presentato le sue previsioni per i prossimi mesi, l'Italia nel 2023 secondo la Commissione europea crescerà dell'1,2% che è nettamente di più di quanto faranno Francia e Germania. Rispetto alla Germania, sì, la Germania sta vivendo un rallentamento molto pesante, rispetto alla media dell'eurozona è 1,2 invece di 1,1. Il problema sarà il 24 perché invece l'Italia, perlomeno la Commissione per quanto valgano le previsioni, vede un rallentamento dell'Italia rispetto al benchmark dell'eurozona. Lei come vede, professoressa, l'economia italiana? Ma io vedo che l'economia italiana effettivamente ha sorpreso in questi ultimi anni, però secondo me non bisogna mai vedere un anno o un trimestre, bisogna vedere la media di qualche anno. Noi abbiamo avuto un Covid molto pesante, molto più pesante dei nostri partner europei e poi abbiamo avuto una ripresa molto rapida, per fortuna perché altrimenti in media sarebbe andata molto male. Se però guardiamo appunto ai livelli di reddito rispetto al 2019, siamo più o meno in linea europea, cioè l'Europa va male rispetto agli Stati Uniti, il consumo è ancora al di sotto del 2019, l'investimento privato è ancora al di sotto del 2019, questo non è vero per gli Stati Uniti. Quindi bisogna fare bene i dati italiani, sono però preoccupata della pesantezza dello shock che hanno vissuto le famiglie italiane, perché l'aumento dei prezzi del gas è stato un aumento appunto di dimensioni, il rapporto diciamo agli ultimi 40 anni non si era mai visto e questo per un paese come l'Italia che non è produttore ma importatore di petrolio vuol dire uno shock negativo sul reddito disponibile che va immediatamente nelle tasche degli italiani. Quindi bene alcuni settori industriali, bene alcuni settori dei servizi, il consumo e diciamo la pesantezza di questo shock nel portafoglio delle famiglie finirà per pesare, anche perché inevitabilmente noi andiamo verso la necessità di un consolidamento fiscale, per cui questi deficit fiscali, questa spesa che abbiamo visto negli ultimi due anni dovranno in qualche modo rientrare. Significa che il nuovo patto di stabilità e crescita sarà di nuovo più restrittivo? Torneremo alle condizioni prima del Covid? Sicuramente sì, è cambiato l'impianto del patto di stabilità per cui le regole sono rimaste le stesse, il 60% di debito, noi siamo al 140 nel medio periodo, 3% nel deficit, però c'è la possibilità di negoziare la velocità verso cui si arriva a questo target, però il compromesso non c'è ancora, per esempio i tedeschi hanno chiesto delle salvaguardie che richiederà ai paesi con più del 3% di deficit e più del 60% di debito, cioè noi, anche la Francia e anche la Spagna, di un aggiustamento più rapido che significa che dovremo fare dei surplus primari più grandi di quanto non è nelle previsioni del governo. Però professore Sarayklin, noi abbiamo un asso nella manica e l'asso nella manica è il PNRR, ci dice come vede l'evoluzione del PNRR e che impatto potrà avere sulla crescita, perché quando è stato lanciato si sono fatti molti calcoli e simulazioni importanti su quanto avrebbe aiutato il PIL. Il PNRR è fondamentale per noi, perché appunto proprio per quello che dicevo prima, siccome dovremo rientrare sul deficit tendenziale e quindi tirare la cinghia dal punto di vista della spesa o dell'imposizione, penso più della spesa, e quindi quello che possiamo spendere è quello che abbiamo già ottenuto e la nostra deve essere, cioè dobbiamo spenderlo, però dobbiamo essere capaci di spenderlo. E lì c'è la solita solfa dell'Italia che si è visto anche con i fondi di coesione territoriali, la nostra capacità di spesa è limitata per una serie di ragioni che hanno a che fare con la nostra capacità organizzativa, con la capacità di management della funzione pubblica, con la decentralizzazione anche in parte, per cui ci sono molte regioni che sono meno capaci di spendere. Anche dentro al governo, professoressa, ci sono due opinioni diverse, c'è chi dice cerchiamo di utilizzare tutto quello che l'Europa ci può dare e c'è chi dice beh, i prestiti facciamone in parte a meno, perché se gli investimenti non ci metteranno in grado di avere un'economia più forte, anche restituire quei prestiti, beh, sarà un bel problema per chi ha oltre il 140% di debito pubblico sul PIL. Sì, oddio, sono prestiti a tassi molto agevolati, con i tassi di interesse che vanno su ci andrà un pochino più cauta, perché i tassi di interesse ora sono alti, quindi quei prestiti sono a condizioni iper agevolate. Quindi bisogna prenderli. Certo, se non si sanno spendere, allora è meglio per non prendere niente. Torno da dove siamo partiti, perché l'inflazione non è uguale per tutti, non solo c'è l'inflazione core, come lei ce l'ha descritta, l'inflazione headline, ma all'interno sapete che l'Istat ha una misura che è, quello che voi conoscete meglio di tutti, il carrello della spesa, che significa alimentari, cura della persona e cura della casa. Allora, guardando anno su anno, questa inflazione ad aprile viaggiava ancora tra il 14 e il 15%. Quanto può tenere il consumatore in una situazione di questo tipo, come vede l'impatto dell'inflazione combinata ai tassi sugli italiani? Per questo che io non voglio fare l'uccello del malagurio, perché poi essendo italiana sono anch'io pessimista, a differenza del precedente speaker, ma non sono molto ottimista proprio per questa ragione, perché comunque per una famiglia di medio-basso reddito lo shock negativo è stato del 15% e questo significa quindi intanto un disagio sociale evidente, comunque un calo dei consumi, un'attenzione che sarà difficile per il governo anche, diciamo, rispondere a questo problema, perché appunto una parte del supporto alle famiglie che si è potuto dare fino adesso non sarà più possibile. Non solo per i vincoli europei, ma anche per il fatto che, diciamo, andiamo di fronte ad una nuova fase con tassi di, appunto, di interesse alti, un debito al 140% è qualche cosa che preoccupa gli investitori, non solo le autorità europee. Quindi siamo, come al solito, in un binario molto stretto in cui bisognerà dare una prova di saggezza, insomma, di sapere spendere i soldi in modo, diciamo, molto mirato, proprio perché non se ne possono spendere tanti e soprattutto sapere spendere quelli che abbiamo già ottenuto con il PNR, perché questa è la nostra possibilità di investimenti pubblici che altrimenti questo spazio non c'è e il calo degli investimenti privati è stato molto pesante, cioè non solo consumo, quindi se pensiamo ai prossimi due anni, non al prossimo trimestre, ma insomma comunque al tendenziale, io credo che la situazione non sia per nulla semplice. Le due aree di investimento però più attive in questo momento sono da una parte quella sulla tecnologia, ne abbiamo parlato prima, e dall'altra le imprese investono anche su rendere più sostenibili il proprio business, i propri processi, il tema della sostenibilità. L'Europa è stato accennato prima, ha messo questa come priorità per le esigenze ovvie, insomma il cambiamento climatico è stato ricordato dolorosamente, insomma crea degli scompensi assoluti, sappiamo che già oggi siamo in grande ritardo, ma anche per l'economia questo potrebbe essere un volano di crescita. Come vede il percorso che è stato impostato e a che punto siamo? Il percorso europeo? Il percorso europeo e il percorso eventualmente anche italiano. Ma diciamo, prima vorrei dire due parole sull'Europa rispetto agli Stati Uniti, secondo me noi siamo stati, cioè l'Europa è stata all'avanguardia con il Green Deal e anche con, e quindi diciamo nel essere molto chiara sugli obiettivi e sulle priorità di investimento, perlomeno l'investimento finanziato dall'Europa, quindi per esempio anche il PNRR ha questa diciamo identità Green. Siamo anche bravi sulla regolamentazione, sugli standard e questo credo che culturalmente sia importante, le imprese questo l'hanno capito e le imprese quindi stanno facendo un grande sforzo in questa direzione. Siamo meno bravi nel mettere i soldi sul piatto perché gli americani che non hanno fatto nulla di tutto ciò né standard regolamentazione però con l'Inflation Act hanno messo molti soldi sul piatto per cui a questo punto investire su tecnologia Green in America è più conveniente che investire in Europa e questo secondo me è un punto molto importante perché ci porta anche a riflettere ai prossimi dieci anni, non ai prossimi due anni, con i limiti che noi ci siamo dati sull'investimento pubblico per questi piani di rientro fiscali, è molto irrealistico pensare che noi possiamo fare veramente un grande salto dal punto di vista della tecnologia verde. Ci sono delle aree in cui abbiamo sicuramente dell'eccellenza ma per esempio sui veicoli elettrici la Germania è stata fatta a pezzi dalla Cina, quindi voglio dire la Germania era la frontiera della tecnologia sull'automotive e invece invece sull'elettrico non c'è per dire, per fare sempre un esempio. Quindi la stessa Commissione europea calcola che per la transizione verde dobbiamo spendere perlomeno il 2% di PIL di investimenti in più e che almeno un terzo di questi investimenti dovranno essere pubblici. Ci si auspica che i due terzi siano privati ma su questo terzo nei piani diciamo invece fiscali che le stesse Europa si dà non si vede come possa essere, come possa rientrare nei conti. Quindi ci vorrà un altro meccanismo tipo PNR o tipo appunto New Generation EU per poter rendere credibile questo piano di transizione verde altrimenti l'Europa è completamente, sta sotto investendo. E infine professoressa Reiklin in questo incontro abbiamo iniziato questa sera un viaggio nella dimensione dell'incertezza per capire come reagire, come muoversi, come prendere decisioni. Abbiamo parlato prima di previsioni sbagliate, fondo monetario, banche centrali, insomma è difficile ma anche i mercati. Pensate che i mercati oggi scontano due ribassi dei tassi di interesse da qui alla fine dell'anno e vedremo se avranno ragione o meno. Però la difficoltà pur nel tempo dell'intelligenza artificiale, dei dati, la difficoltà ad azzeccare le previsioni è diventata enorme. Lei qualche anno fa ha innovato nei modelli econometrici con un'idea che era il now casting cioè la previsione del... Il now casting è diciamo il metodo, è un metodo diciamo più... non è come c'è GDP però è comunque un metodo di machine learning cioè usare tutti i dati che vengono pubblicati in tempo reale e metterli in un algoritmo che aggiorna le previsioni ogni 15 minuti invece di ogni mese. Perché rendere questa cosa efficiente naturalmente si ha bisogno di dati ad alta frequenza, ci sono appunto le survey, i dati finanziari, le dati sulle carte di credito eccetera che possono essere usati per avere un update appunto molto ad alta frequenza sul pulso dell'economia. Quindi questa era la macchina che io mi sono inventato ormai oddio 20 anni fa e ora è usata in molti... cioè noi... io ho anche una società che fa questo che la vende soprattutto agli investitori finanziari cioè ai traders perché questa alta frequenza appunto va nelle strategie di trading. Detto questo questa previsione funziona solo a brevissimo a brevissimo orizzonte perché a più lungo orizzonte le previsioni economiche sono sempre state storicamente molto molto... il forecast in realtà questo forse la gente non del mestiere non sa che il forecast la previsione è un modo per raccontare una storia, non è un numero. Il numero lo si può dare su cosa succede il prossimo mese o il prossimo trimestre. Se vogliamo raccontare quello che succederà tra un anno, già tra un anno o quello che si fa e io ho lavorato la BCE e quello che si faceva la BCE ma è quello che fanno anche i mercati è di prendere tanti pezzi, di metterli in un modello che che dà un po' l'idea di come possono essere delle traiettorie possibili e poi si valutano le possibili traiettorie. Però sono delle storie, non sono... Ricordatevene quando farete i prossimi budget. Grazie ancora professoressa Raiklin. Grazie.